Io credo che se tutti ci mettiamo a esprimere opinioni sulle singole cose, sulle 22 o le 23, facciamo un grande errore, nel senso che ognuno faccia il suo mestiere. Il governo decide quello che va fatto, perché il governo ha gli strumenti per decidere, io personalmente non ce li ho, non so in maniera compiuta e non so chi può saperlo qui a Milano dell'evoluzione della situazione pandemica, per cui chi fa politica deve in questa fase darsi da fare perché si rispetti quello che il governo decide. Dopodiché sul tema del coprifuoco, di quanta gente c'è in giro, io li vedo già ai politici che prima erano lì tutti apriamo, apriamo, apriamo e appena si apre e succede che la gente va in giro, gridano lo scandalo, è solo politicanti, non sono politici, è solo la voglia di polemica, in realtà io ricordo a tutti, voglio ricordare a tutti chi più si è spinto per apriamo, apriamo, apriamo e non hanno l'intelligenza per capire quando si apre che ci possono essere situazioni del genere, per cui io vado avanti per la mia strada con serietà e in questo momento per me la serietà non è mettere il becco su decisioni che spettano d'altro, è cercare di fare il possibile affinché la comunità funzioni e riparta.